Teresa Modena, che è anche autrice del pezzo, il titolo è Vuoto Rifresso. Certe cose sembrano lontane mille vite da noi, così persistiamo a migliorare, ed andiamo avanti con le nostre vite come se non la fossero, dicendo che tutto sia passato. La verità è che il pomo nero esiste, fa male. Come ti senti? Bene, oggi sto bene. Oggi non ti raggiungo queste cose, cosa ti ho fatto? Cosa mi hai fatto? Cosa mi hai fatto? Mi hai rovinata? Per colpa tua adesso non riesco più neanche ad essere una ragazzina. Mi hai precioso la possibilità di essere un gelo. Non riesco più a sorridere pensando al tuo. Perché accusi me? Non è colpa mia. Lui era così gentile per me, così dolce. Mi dava sempre tutto quello che volevo. Mi coccolava, mi chiamava principessa, mi faceva sentire assucco. È possibile che ancora tu non tenere la conto? Era un bastardo! Non è vero! Lui ci voleva bene. Ti voleva bene anche mentre ti affrima le gambe? Ti voleva bene mentre ti urlava di stare ferma? Mentre ti veniva dentro e ti insottava di lui? Smettila! 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 Quando ci accadono cose che sono più grandi di voi, tendiamo a nasconderci in un mondo fondizio, fatto di bugie e di realtà in storia. Eppure ci sarà sempre qualcuno che ci sbatterà in faccia alla realtà. Per lui eri solo una bambola, un pezzo di carne da usare per raggiungere un orgasmo, un pezzo di carne da distruggere. Basta! Prego, basta! Perché non mi lasci dimenticare quanto è accaduto? È impossibile dimenticare. Ho un marchio inciso a fuoco dentro di noi qualcosa di cui non ci libereremo mai, nemmeno trovandoci con tutte le porte. Non ti permetterò di dimenticare niente. Non è giusto sia solo io a sopportare il peso di questo fardello. Se sono condannata a rivivere quei momenti, ogni volta che chiudo gli occhi devi esserlo anche tu. È così sbagliato voler dimenticare! Voglio tornare ad essere una ragazzina come tutte le altre, con piccoli problemi comuni, non con una voragine che si logra ogni giorno di più. Io rivoglio la mia innocenza! Anch'io la rivoglio, marda! Anch'io la rivoglio! Mi sento ancora così sporca! E più cerco di lavarmi, più sento il sonore impresso sulla mia pelle. È come una piramide di brattoli di latte. Se ne tolgo qui in cima non accade nulla. Ma se ne tolgo una lavata, c'è la mia pelle. E' trova. Nessuno pensa bene a quello che crede, ci crede e basta. Così inseriamo di tutto in tutta una piramide. E ci ritroviamo con credenze sbagliate, con sicurezze che non sono tali. Non è la vita che ci inganna. Siamo noi che inganniamo lei. Volevo ringraziare Elena che ha scritto il pezzo con me. Ciao Elena! Eccoci! Allora, siamo al pezzo...